benvenuto e benvenuta se è possibile per te è consigliabile fare questa meditazione da sdraiati se invece non ti è possibile permettiti semplicemente di trovarti in una posizione comoda una posizione migliore per te e quando sei pronto e pronta fai un respiro profondo a pieni polmoni chiudi gli occhi lascia che ogni respiro possa aiutarti a rilassarti sempre di più in profondità e lasciare fluire questo flusso di energia naturale che passa ed entra al centro del tuo cuore ti chiedo di portare la tua mano sul tuo cuore e lasciare fluire anche questa energia nel centro del tuo cuore lasciala fluire ispirando ed ispirando una nuova energia che entra nel tuo cuore ad ogni ispirazione e mentre lasci che il tuo respiro possa fluire in modo naturale nello stesso tempo le tue tensioni che sono state accumulate durante questo tempo e lascia andare in modo naturale ed entra sempre di più in connessione con il tuo cuore va bene così sei a casa sei nel posto giusto e ogni volta che entrerai in contatto col tuo cuore ogni volta che porterai la tua mano sul tuo cuore potrai immaginarti di essere qua in questo luogo tranquillo la tua mente sta creando e lascia che ogni muscolo si possa rilassare e questa luce possa uscire amorevolmente dal tuo cuore è una luce colorata e lascia che ogni respiro sia sempre più dolce e naturale permettiti di lasciare andare ogni resistenza ogni tensione semplicemente lascia scorrere il tuo respiro inizia a immaginare che questa luce possa entrare in uno spazio in un grande universo ora lascia andare la tua mano riporta la tua mano nella posizione naturale dove ti puoi rilassare sempre di più in profondità e ora immagina che ci sia una luce davanti a te ti permette di fare uno scanner sì come se ci fosse un fascio laser che parte dalla tua testa e purifica ogni parte del tuo corpo sempre più giù le mascelle la gola le spalle arriva sempre più giù il bacino le gambe i polpacci i piedi e poi ritorna su rifà tutto il passaggio fino a salire su nella tua mente nel tuo volto è come se ad ogni passaggio il tuo corpo si riempie sempre di più di luce che purifica ogni tua cellula luce di amore e di gentilezza qui non c'è nulla che devi fare di più ma è quello che è necessario fare è rilassarti ed entrare in connessione con questa energia superiore rilassati lasciati andare questo è il tuo momento il momento perfetto giusto per te sentiti nel luogo giusto perché tu sei perfetto perfetta senza giudizio nulla da cambiare questo è il tuo momento per te lasciati andare nel momento di sentirti sempre di più a tuo agio in questo luogo lasciati guidare da questa bella sensazione perché sei degno e degna di entrare in connessione con l'amore dell'universo esattamente così come sei perché sei degno e degna di ricevere la luce del bene dell'amore mentre inizi ad attirare nella tua consapevolezza tutto ciò che arriva a livello di intuizione sei sempre più connesso e connessa nel tuo cuore e ora immagina di diventare sempre più piccolo piccola 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 permettiti di entrare nel centro energetico del tuo cuore e lì trovi una stanza di luce rosa e verde fidati di come la tua immaginazione si sta mostrando in questo momento questa stanza è un'immagine che sta creando la tua parte più profonda fidati di ciò che arriva e lì in quella stanza vedi uno specchio ma prima di avvicinarti devi sapere questo a riguardo devi sapere che tu fai parte dell'amore devi sapere che tu nasci in un luogo dove sorge l'amore e ora ti avvicini e osserva questo specchio ti mostra il modo come ti stavi guardando prima di essere qua e forse c'era qualcosa che non era in coerenza non era collegato alla forza dell'amore ma oggi è necessario che inizi a guardarti attraverso questo specchio con gli occhi dell'amore quell'amore incondizionato come se dovessi guardare un bambino un cucciolo di un animale come se dovessi guardare un animale indifeso un bambino indifeso considera questo momento speciale per te considera di osservarti con gli occhi dell'innocenza come ti senti quando sei lì a guardare te stesso con gli occhi innocenti perché sei perfetto sei degna degno di essere nell'amore di ricevere amore considera questo istante un momento speciale per la tua vita ti senti a tuo agio senti il tuo corpo che entra nella frequenza del cuore e via via dentro di te sei pronto e pronta a integrare tutta questa parte che è dentro di te osservati nuovamente nello specchio guarda i tuoi occhi sei nato degno e degna di essere amato quindi di ricevere abbondanza sei nato completamente meritevole di essere nella compassione perché la compassione è amore la compassione è naturale quello che sei quello che sei è già dentro di te non c'è nulla che devi cambiare in questo istante vai bene così guardati nuovamente negli occhi guarda la tua profondità con compassione con amore e gentilezza e ti guardi con gli occhi dell'amore incondizionato facendoti sapere che stai bene che sei perfetto e perfetta così come sei pronto sempre di più ad amare quella parte più profonda che è connessa alla tua anima ora offri gentilezza e compassione all'anima che vedi di fronte a te potresti vedere una parte di te che è ancora in ombra e gli dai amore potresti vedere una parte antica di te e gli dai amore entri nella compassione quella compassione nasce dentro di te e nel tuo cuore fai sapere che sei qui pronto a sostenerti a sostenere questa immagine sei nel posto giusto sei nel posto dell'amore sei qui per sostenerti per incoraggiarti permettiti di sentirti veramente a tuo agio e ora prova a espandere questa sensazione nel tuo cuore è una sensazione che diventa sempre più grande ringrazia te stesso e te stessa di essere qui nel tuo corpo nel qui e ora sentintoti in connessione con una forza invisibile legata alla compassione compassione per qualsiasi essere per qualsiasi essere di luce per qualsiasi essere che vedi nella tua completezza qui sei nella compassione espandi questa frequenza di amore intorno a te diventa amore diventa luce di amore bene sono lieto e felice di essere stato un tramite per te e questo percorso che hai fatto dentro di te ti auguro ogni bene 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 bene